In avanti Narcos NP nei confronti del numero 3 di Oleggio, quindi Narcos poi c'è il numero 3 di Oleggio Quindi Narcos NP che controlla la situazione nei confronti del Oleggio, poi c'è il numero 4 Quindi in avanti Narcos NP, ancora Igor Stravinsky, poi all'esterno anche il numero 6 di Oleggio Quindi Igor Stravinsky che è pressa ai fianchi Narcos, quindi Oli B ancora Oleggio, quindi il numero 8 di Milionarios Controlla la situazione in avanti Narcos, quindi Igor Stravinsky è rimasto in scia, quindi Oleggio ancora il numero 6 In avanti il numero 5 di Narcos NP, ancora all'esterno Igor Stravinsky, quindi c'è all'esterno anche il numero 6 di Oli B Quindi Milionarios, Narcos NP che controlla la situazione, Milionarios all'argo Prova ad affacciarsi su Igor Stravinsky, quindi c'è il numero 4 di OKMG Quindi Narcos in avanti, ancora OKMG, all'argo il numero 2 Quindi Narcos NP, ancora OKMG che prova a venire via all'esterno Quindi Milionarios che si aggancia con Igor Stravinsky, quindi Narcos NP, ancora OKMG Narcos che prova a sfuggire al numero 4, quindi Narcos NP, OKMG battute finali Ed è Narcos NP che viene a vincere su OKMG al terzo posto, il numero 8 di Milionarios Grazie a tutti